buonasera buonasera a tutti gli amici del pianeta del giovedì pianeta occhia a rotelle canali novantasei a cui aggiungo il centottantasette nuovo canale comunitario di Tele Firenze di Ola Super Sport che si chiama Firenze Sport uno in lo vedete sul vostro canale andiamo a fare il punto della situazione su tutte le notizie che sono arrivate sui campionati di hockey a rotelle la bella notizia è che Follonica la nostra Follonica una delle quattro squadre toscane è andata a fare bottino pieno sul campo della prima in classifica il Trissino e poi c'è l'anticipo del derby toscano di a due giocato ieri sera per cui andremo a vederlo dunque è arrivata la prima sconfitta casalinga della capolista Trissino un qualcosa che ricorda nel mondo del calcio la prima sconfitta del Napoli della settimana scorsa in casa contro la Lazio dopo le due partite le due partite fuori casa Bassano e da Forte le Marmi un match che sembrava a tutti gli effetti un match da playoff un braccio di ferro che era terminato sullo zero a zero dopo i primi venticinque minuti di gioco è stato un episodio a far accendere il posticipo domenicale sempre se lo zero a zero come quello di Trissino Follonica possa essere rubricato come noiosa quando le due squadre seppure entrambi a trazione posteriore hanno giocato un match completamente a viso aperto creando pari opportunità in attacco Giulio Cocco eh si inventa un'alzata e schiacciata di ottima di ottima fattura il Galiziano Cancelà viene espulso col cartellino rosso per una manata in faccia a Pinto e dal dischetto del tiro diretto appunto Cocco va ad inventarsi una schiacciata di ottimo fattura lo so che per aver perso un giocatore fondamentale faceva compattare anche più il team di mister Silva che col passare dei minuti rosicchiava metri e metri in attacco trovando il gol del pareggio con Montingel ma col grande lavoro dietro porta di Davide Banini a due minuti e mezzo dalla fine il decimo farlo in attacco dei campioni d'Italia e dal conseguente tiro diretto Banini firmava il vantaggio del due a uno serviva un'azione ravvicinata del veloce Malagoria ripareggiare i conti a novantotto secondi dalla sirena finale Tristino però commetteva lì un errore fatale in difesa e Francesco Banini ancora lui poteva far conquistare tre punti ai suoi portando il Follonica in terza posizione assoluta scavalcando tutto il gruppone in 105 secondi è la terza squadra che giocherà in Europa sconfitta in questa ventiduesima giornata forse ha perso in casa contro Bercelli Sarzana in casa del Montebello e adesso il Tristino che va a perdere contro il Follonica mentre Lodi ha pareggiato contro Bassano dunque appuntamento nel prossimo weekend alle coppie europee per Follonica e Bassano allora intanto andiamo a vedere i risultati di questo turno poi penseremo alla due allora ventiduesima giornata a uno Montecchio precalcino centro giovani calciatori di Vareggio uno tre uno uno zero due chimica Montebello innovation Sarzana cinque due due a uno tre a uno la ripresa Valdagno ed il Fox e Grosseto otto a quattro dura battuta di arresto del Grosseto raddoppiato in terra di Veneto otto a quattro sei uno nonostante il tentativo di rimonta Grosseto due e tre finisce otto a quattro Monza Sandrigo cinque a quattro uno a zero quattro pari poi troviamo eh impianti Versilia Forte Vercelli cinque a otto altra sconfitta in casa per il i ragazzi del Forte dei Marmi due quattro tre quattro due tempi dominati da Vercelli dopodiché Lodi Bassano finisce uno a uno un tempo per uno uno a zero Bassano uno a zero Lodi e finisce pari e patta poi come detto Tristino Follonica due tre zero zero come abbiamo raccontato nel commento tutto si decide nella ripresa due tre per gli ospiti Maremmani e allora la classifica di conseguenza diventa Tristino cinquantatré Lodi accorcia quarantacinque meno otto laddove qualche settimana erano addirittura quattordici Follonica sale terzo quarantuno Salsana quaranta Grosseto quinto trentanove Forte dei Marmi sesto trentasei Bassano e Vercelli ne hanno trentacinque ventotto Valdagno venticinque Monza venti il San Drigo quindici il neopromosso centro giovane calciatori di viareggio dodici Montecchio precalcino undici chiude Montebello uno sguardo ai marcatori allora Mendes Tristino e Cocco Tristino dicano ai signori trentatré trentatré per entrambi fanno sessantasei gol Tamborindeghi Monza ventotto poi arriva anche Malagoli allora sessantasei settantasei ottantasei con Malagoli facciamo novanta gol in tre precisi precisi Davide Manini Follonica Saavedra Grosseto e Tatarani di Vercelli seguono staccatissime a ventitré Tiel di San Drigo a ventidue andiamo a vedere quello che invece è successo e facciamo anche un minimo di commento al campionato per ciò che riguarda le vicende della due maschile il girone che ci riguarda allora vediamo vediamo un po' dove andiamo la serie a due annota l'ennesimo ribaltone di questo incredibile campionato cambiano le capoliste sia nel girone a sia nel girone b nel girone a Simbol Modena Indeco Giovinazzo il primo colpo di scena arriva dall'inviolabile pista dello storico pala dal lago dove la capolista del girone a Veneta Lab e Breganze viene sconfitta 4 e 3 rimonte da un super Oscar Ferrari l'azzurra con una gara in meno ritorna in corsa per la promozione di compatta il gruppo di testa 5 squadre in 5 punti ringrazia Simbol Modena ora nuova capolista con due punti di vantaggio sui rossoneri andiamo a vedere anche quello che riguarda il girone di vediamo eccolo qua dove l'Indeco AFP Giovinazzo di Pino Marsella recupera la sua gara contro Acea Folloni che sorpassa il Blue Factor Castiglione al primo posto nella giornata dove aveva vinto 4 a 3 contro il Gamma Innovation Sarzana oggi nel weekend seconda vittoria 5 a 2 contro Follonica dove entrambe le gare è sempre stato Federico Mura a destra del bomber 4 gol in 100 minuti pari pari Castiglione si conferma ancora una volta vincendo 7 a 0 contro Campolongo Salerno di cui 6 realizzate nel primo tempo le doppiette del bomber Buralli Piro e Montauti l'impresa della giornata è sicuramente del versile a hockey forte un altro gruppo di ragazzi che nonostante le assenze dei più forti Borgo e Lombardi impegnati in A1 sono andati a vincere il derby 6-4 a Camaiore in rimonta negli ultimi 5 minuti dove il team di mister Mori va a realizzare tre reti quelle decisive la doppietta di Maggi e Gabriel Ambrosio ora i rosso-blu versilesi sono terzi mentre Camaiore finalista della Coppa Italia di A2 rimane quinta ad undici punti dal primo posto seconda vittoria per la Decomo Roller Matera vincendo 5-4 sulla cea follonica anch'essa impegnata per due volte nel weekend fondamentalmente il 3-0 maturata nei primi 12 minuti del bastone dal 25enne Giovanni Antezza che segna tripletta prende la pallina e se la porta a casa sotto la maglietta che lasciano i Maremmane a meno 4 dalla salvezza l'indecco giovinasso nel weekend è intanto diventata la nuova capolista del girone B e dovrà confermarsi giorno dopo giorno per rimanere in testa alla classifica il primo test è in casa della Decomo Roller Matera domenica prossima alle ore 18 nel derby del sud più sentito contro un team che è tornato recentemente alla vittoria uno degli scontri più importanti del weekend sarà quello tra Castiglione e servizi di Forte dei Malmi cioè seconda contro terza due squadre in ottima forma che si affronteranno per cercare di far continuare la rispettiva striscia di vittoria ritorna in pista anche Pumas Viareggio che ospita alla pista Pietri il Campolongo Salerno mentre Camaiore va ad ospitare il Gamma Innovation Sazana e e allora andiamo a vedere come c'è stato l'anticipo Follonica ha battuto Hobbistol Grosseto nel derby mare in mano allo spasimo 4 a 3 e allora andiamo a vedere la situazione in a2 grazie anche a Enrico Milano che vi fa vedere quello che io gli ho passato ovvero sia la situazione di classifica con anche i risultati allora Matera Follonica giornata 9 5 a 4 Castiglione Salerno 7 a 0 Giovinazzo Sazana 4 a 3 Camaiore Forte dei Malmi nel derby 4 a 6 il 14 marzo si giocherà Farma e Puma Sanco da Viareggio Hobbistol Grosseto la classifica Giovinazzo 23 Castiglione 22 vado a riprendermi il risultato abbiate pietà un minuto perché non voglio poi andare a darvi situazioni cambiate rispetto a quello che è il disegno ha vinto Follonica per cui ha vinto Follonica per cui in a2 con Follonica Giovinazzo 23 Castiglione 22 Forte dei Malmi 18 Ancora Viareggio 15 Camaiore 12 Sazana 10 Salerno 7 Matera 6 Grosseto 6 Follonica 2 che diventano automaticamente 5 ok con tre punti per la vittoria andiamo a vedere invece la settima giornata della serie B Focaceria Orlando Versilia Occhi e Forte Puma Sanco da Viareggio 5 a 5 derby scintillante Startit che invade Occhi e Roller Grosseto i Pratesi vincono 12 a 1 aspettiamo le vostre note commenti e tabellini grazie se vogliate ok club Castiglione centro giovane calciatori da Reggio finisce 4 a 3 ok club Castiglione e Startit Prato coppia di testa 15 centro giovani calciatori di Viareggio 9 Rotelistica Camaiore e Puma Sanco da Viareggio 8 Roller Grosseto 4 Focaceria Orlando Versilia Forte un punticino ma le focaccine sono davvero buone allora questo è quanto è successo nel nell'ultimo turno e anche nel posticipo della serie a 2 fresco ieri sera pertanto Stefano Ballerini vi ringrazia vi augura un buon fine settimana ritorneremo con l'hockey giovedì prossimo domani venerdì la presentazione di tutti gli impegni di tutte le squadre nel weekend che si va a disputare per cui ovviamente anche occhi a rotelle durante la nostra rassegna stampa mattutina con Paolo Caselli lunedì eh sarò a Camaiore per la presentazione del torneo di Viareggio spero di avere un quarto d'ora per potervi dare eventualmente con Paolo a ribattuta di linea i primi risultati dei vari campionati e poi dal lunedì partiranno i nostri speciali ci ritroveremo di via una settimana il giovedì per Pianeta Occhi a Rotelle canali 96 e 187 a presto buon occhi a rotelle a tutti da Stefano Ballerini buonasera la linea torna la nostra programmazione grazie Enrico Milano